Oggi desidero parlare di un sacerdote veramente speciale che è ancora vivo e che ha vissuto un'esperienza straordinaria nell'aldilà. Il suo nome è padre Giuseppe Manian Gatt. La sua esperienza è veramente straordinaria e ci fa capire molte cose significative più importanti della vita terrena e della vita eterna. Così ha testimoniato lo stesso sacerdote. Sono nato il 16 luglio 1949 in Kerala, in India, dai miei genitori Giuseppe e Teresa Manian Gatt. Sono il maggiore di sette figli. All'età di 14 anni sono entrato nel seminario minore di Saint Mary a Tiruvalla per iniziare i miei studi per il sacerdozio. Quattro anni dopo sono andato al pontificio seminario maggiore San Giuseppe ad Aluaye in Kerala per continuare la mia formazione sacerdotale. Dopo aver completato i sette anni di filosofia e di teologia, sono stato ordinato sacerdote il primo gennaio 1975 per servire come sacerdote presso la diocesi di Tiruvalla. Nel 1978, mentre insegnavo al seminario minore di San Tommaso a Beiteri, sono diventato un membro attivo del movimento del rinnovamento carismatico e ho iniziato a condurre dei ritiri e delle conferenze carismatiche in Kerala. La domenica 14 aprile 1985, festa della Divina Misericordia, dovevo celebrare la Santa Messa in una chiesa nel nord del Kerala e ho avuto un incidente stradale, mortale. Stavo guidando una motocicletta quando sono stato investito frontalmente da una jeep guidata da un uomo che era ubriaco dopo una festa hindù. Sono stato portato d'urgenza in un ospedale a circa 35 miglia di distanza. Lungo la strada, la mia anima è uscita dal mio corpo e ho sperimentato la morte. Immediatamente ho incontrato il mio angelo custode. Ho visto il mio corpo e le persone che mi stavano portando in ospedale. Li ho sentiti piangere e pregare per me. In questo momento il mio angelo mi ha detto, ti porto in paradiso. Il Signore Dio vuole incontrarti e parlare con te. Mi disse anche che durante il percorso voleva mostrarmi l'inferno e il purgatorio. Per prima cosa, l'angelo mi ha ascoltato all'inferno. Era uno spettacolo orribile. Ho visto Satana e i demoni. C'era un fuoco inestinguibile e insopportabile. Come se fosse di circa 2000 gradi Fahrenheit. C'erano orribili vermi che strisciavano. Persone che gridavano e litigavano. E altre erano torturate dai demoni. L'angelo mi disse che tutte queste sofferenze erano dovute ai loro peccati mortali di cui non si erano pentiti. Poi, ho capito che all'inferno ci sono sette gradi o livelli di sofferenza secondo il numero e il tipo di peccati gravi commessi nella loro vita terrena. Le anime dei dannati apparivano estremamente brutte, crudeli e orribili. È stata un'esperienza spaventosa. Ho visto persone che conoscevo ma non mi è permesso rivelare la loro identità. L'angelo mi disse che non mi era permesso rivelarlo. Erano umani ma erano come mostri spaventosi delle cose dall'aspetto molto brutto. L'angelo mi disse che se si fossero pentiti durante le loro vite avrebbero evitato l'inferno e sarebbero invece andati in purgatorio ma quei dannati non si erano pentiti dei loro peccati. Ho anche capito che alcune persone che si pentono di questi peccati quando sono ancora in vita sulla terra potrebbero essere purificate sulla terra attraverso le loro sofferenze. in questo modo possono evitare il purgatorio se espiano tutti i loro peccati durante le loro vite terrene e possono andare direttamente in paradiso. rimasi sorpreso anche da alcune persone che vidi all'inferno alcuni erano sacerdoti altri erano vescovi c'erano molti ecclesiastici perché avevano fuorviato la gente erano persone che non mi sarei mai aspettato di trovare là. E qui apro una piccola parentesi quando racconta che alcuni di questi ecclesiastici all'inferno avevano fuorviato la gente noi possiamo immaginare che la principale forma di fuorviamento è quella dottrinale cioè quando si insegnano delle eresie o delle idee che sono contrarie all'autentica dottrina cattolica noi abbiamo uno strumento importante alla portata di tutti per capire dove è la vera dottrina e capire le vere idee da quelle false noi abbiamo ad esempio il catechismo della chiesa cattolica che il principale testo dottrinale ha la portata di tutte le persone che possono capire tutti e io lo consiglio vivamente a tutti di averlo in casa il catechismo della chiesa cattolica naturalmente insieme alla sacra scrittura la sacra bibbia quando si hanno questi validi strumenti non si rischia di essere fuorviati dalle eresie o da idee che sono contrarie alla vera fede cattolica proseguo con la testimonianza dei sacerdote padre maniangat dopo la visita all'inferno il mio angelo custode mi ha accompagnato in purgatorio anche qui ci sono sette gradi di sofferenza e di fuoco inestinguibile ma è molto meno intenso dell'inferno e non c'erano litigi o lotte la principale sofferenza delle anime purganti è la loro separazione temporanea da dio alcuni di coloro che sono nel purgatorio commisero numerosi peccati mortali ma furono riconciliati con dio prima della loro morte anche se queste anime stanno soffrendo godono della pace e della consapevolezza che un giorno vedranno dio faccia a faccia ho avuto la possibilità di comunicare con le anime del purgatorio mi hanno chiesto di pregare per loro e di dire alla gente di pregare anche per loro in modo che possano andare rapidamente in paradiso quando preghiamo per le anime del purgatorio riceveremo la loro gratitudine attraverso le loro preghiere di intercessione a dio e una volta entrate in paradiso le loro preghiere diventano ancora più meritorie è difficile per me descrivere quanto sia bello il mio angelo custode è radioso e luminoso e il mio compagno costante e mi aiuta in tutti i miei ministeri specialmente nel mio ministero di guarigione sento la sua presenza ovunque io vada e sono grato per la sua protezione nella mia vita quotidiana successivamente il mio angelo mi ha ascoltato in paradiso passando attraverso una specie di grande tunnel di un colore bianco abbagliante non ho mai provato tanta pace e gioia nella mia vita poi istantaneamente il cielo si è aperto e ho sentito la musica più sublime che non avevo mai sentito prima gli angeli cantavano e lo davano Dio ho visto tutti i santi specialmente la Santissima Vergine Immacolata e San Giuseppe e molti santi vescovi e sacerdoti devoti che brillavano come le stelle e quando mi sono presentato davanti al Signore Dio faccia faccia Gesù mi ha detto voglio che torni nel mondo nella tua vita sarai uno strumento di pace e di guarigione per il mio popolo camminerai in terra straniera e parlerai in una lingua straniera tutto ti è possibile con la mia grazia dopo queste parole la Santissima Vergine Immacolata mi ha detto fai quello che ti dirà io ti aiuterò nei tuoi ministeri e poi prosegue la testimonianza le parole non possono esprimere la bellezza del paradiso lì troviamo tanta pace e felicità che superano milioni di volte la nostra immaginazione nostro Signore è molto più bello di quanto qualsiasi immagine possa trasmettere il suo volto è radioso e luminoso è più bello di mille soli nascenti le immagini che vediamo nel mondo su di lui sono solo un'ombra della sua magnificenza la Santissima Madre era accanto a suo figlio Gesù era così bella solare e luminosa nessuna delle immagini che vediamo in questo mondo può essere paragonata alla sua vera bellezza il paradiso è la nostra vera casa siamo tutti creati per aggiungere il paradiso e godere di Dio per sempre ho visto là anche dei sacerdoti e dei vescovi le nuvole erano differenti non erano scure o cupe ma splendenti erano bellissime molto luminose e c'erano dei fiumi che erano differenti da quelli che si vedono qui è quella la nostra vera casa non ho sperimentato mai nella mia vita quel genere di pace e di gioia poi sono ritornato nel mondo con il mio angelo custode mentre il mio corpo era in ospedale il medico aveva completato tutti gli esami e i controlli ed ero stato dichiarato morto la causa della mia morte era stata il dissanguamento dopo l'incidente stradale la mia famiglia era già stata informata della mia morte e poiché i miei parenti erano lontani il personale dell'ospedale decise di trasferire il mio cadavere all'ubitorio poiché l'ospedale non disponeva di condizionatori d'aria temevano che il mio corpo si decomponesse rapidamente così mentre stavano trasferendo il mio cadavere all'ubitorio la mia anima rientrò nel corpo quando rientrai nel mio corpo sentii un dolore terribile a causa delle tante ferite che avevo e delle ossa rotte dal dolore che provavo cominciai a gridare e le persone presenti si spaventarono e scapparono urlando uno di loro corse dal medico e gli disse il cadavere sta gridando il dottore corse a esaminare il mio corpo e scoprì che ero vivo allora esclamò il padre è vivo è un miracolo riportatelo in ospedale mi ritrasportarono in ospedale mi fecero delle trasfusioni di sangue e mi portarono in sala operatoria per riparare le ossa rotte mi operarono la mascella inferiore alle costole alle ossa del bacino ai polsi e alla gamba destra dopo due mesi mi dimisero dall'ospedale ma il mio medico ortopedico mi disse che non avrei mai più camminato allora gli risposi il signore dio che mi ha ridato la vita e mi ha rimandato nel mondo mi guarirà tornato a casa stavamo tutti pregando per un miracolo un mese dopo non avevo più i gessi addosso ma non ero in grado di muovermi ma un giorno mentre stavo pregando ho sentito un dolore tremendo nella zona delle ossa del bacino poco dopo il dolore scomparve del tutto e sentì una voce che mi diceva sei guarito alzati e cammina ho sentito la pace e il potere curativo di Gesù sul mio corpo mi sono subito alzato e ho camminato ho lodato e ringraziato dio per il miracolo ho contattato il mio medico con la notizia della mia guarigione ed è rimasto sbalordito diceva il tuo dio è il vero dio devo seguire il tuo dio il dottore era un hindu e mi ha chiesto di insegnargli la dottrina della nostra chiesa cattolica così lui dopo aver studiato la dottrina cattolica è stato battezzato da me ed è diventato cattolico seguendo il messaggio del mio angelo custode sono venuto negli Stati Uniti il 10 novembre 1986 come sacerdote missionario prima ho lavorato in una diocesi nell'Hidao dal 1987 al 1989 e poi nella diocesi di Orlando in Florida dal 1989 al 1992 nel 1992 sono arrivato nella diocesi di Saint Augustin dove sono stato assegnato per la prima volta alla parrocchia di San Matteo a Jacksonville per due anni sono stato poi nominato vicario parrocchiale della chiesa dell'Assunzione dal 1994 al 1999 nel 1997 sono stato incardinato come membro permanente della diocesi dal giugno del 99 al giugno del 2011 sono stato parroco nella chiesa della Madre della Misericordia in Florida ho anche prestato servizio come cappellano cattolico per la prigione di stato della Florida a Starke e cappellano al Northeast Florida State Hospital a McLennie il primo luglio del 2011 sono stato assegnato alla chiesa cattolica di Santa Catarina da Siena a Orange Park in Florida come vicario parrocchiale sono stato anche direttore spirituale diocesano della Legione di Maria il primo sabato di ogni mese ho condotto un ministero eucaristico e di guarigione carismatica presso la chiesa di Santa Catarina da Siena a Orange Park in Florida la gente venuta da tutta la diocesi da molte parti della Florida e anche da fuori dello Stato mi sono ritirato dal ministero parrocchiale il 15 aprile 2016 per dedicarmi attivamente al ministero di guarigione a tempo pieno con l'approvazione e il permesso del mio vescovo per poter condividere il ministero del Signore conferitomi da dio con le persone di tutto il mondo così avrò più libertà di servire la gente rimarrò nella zona di Jacksonville in Florida attraverso questo ministero di guarigione eucaristica ho visto molte persone guarire fisicamente spiritualmente mentalmente ed emotivamente infine infine il sacerdote maniangat dice che Maria Santissima e il suo angelo custode gli appaiono ancora la Santissima Vergine Immacolata le appare ogni primo sabato del mese durante la meditazione mattutina lui dice che è un'apparizione privata e serve per guidarlo nel suo ministero le apparizioni quindi sono private e non pubbliche Maria Santissima gli ha detto che il mondo è pieno di peccati e gli ha chiesto di digiunare di pregare e di offrire la Santa Messa per il mondo affinché Dio non lo punisca dice il sacerdote abbiamo bisogno di più preghiera Maria Santissima è preoccupata per il futuro del mondo a causa dei peccati soprattutto di quelli di aborto la sodomia l'eutanasia l'odio la mancanza di perdono Maria Santissima ha detto che se la gente non ritorna a Dio ci sarà un grande castigo per l'umanità il messaggio principale del sacerdote tuttavia è di speranza lui ha visto che il paradiso era pieno di una luce che guarisce e al suo ritorno ha portato con sé un po' di quella luce qualche tempo dopo lui ha fondato un gruppo di guarigione e dice di avere visto persone guarire da ogni tipo di malattia nella sua esperienza spirituale a volte è stato attaccato anche dai diavoli lui ricorda che particolarmente prima delle funzioni religiose è stato anche vessato e assalito fisicamente ma lui dice che tutto questo è nulla in confronto alle grandi grazie spirituali e benefici che ha ricevuto da Dio siano sempre lodati benedetti ringraziati e amati i santissimi nomi di Dio di Gesù di Maria Santissima e di San Giuseppe o nostro Dio noi crediamo noi vi adoriamo noi speriamo noi vi amiamo vi domandiamo perdono per coloro che non credono non vi adorano non sperano e non vi amano e non vi adorato